Uscire da noi stessi per testimoniare la forza risanatrice dell'amore di Cristo. Questa è la strada a senso unico che Gesù Risorto ci indica per andare verso un'umanità spesso ferita e timorosa che porta le cicatrici del dolore e dell'incertezza. Lo ha evidenziato Papa Francesco celebrando in Piazza San Pietro la messa nella Domenica della Divina Misericordia, giorno del Giubileo per quanti aderiscono a tale spiritualità. Il Pontefice ha esortato tutti a diventare scrittori viventi del Vangelo con gesti concreti d'amore davanti a tante persone che chiedono di essere ascoltate e comprese. Il Vangelo della Misericordia ha ricordato cerca persone con il cuore paziente e aperto che conoscano la compassione e il silenzio dinanzi al mistero del fratello e della sorella e che amino gratuitamente senza pretendere nulla in cambio per portare la pace di Cristo. Quella stessa pace che attendono gli uomini del nostro tempo non negoziata che non divide che non lascia soli ma ci fa sentire accolti e amati come si sentì Tommaso dopo aver toccato le piaghe di Gesù. È la pace che proviene dal cuore del risorto. Essere portatrice di quella pace ha ricordato è la missione affidata alla Chiesa. Ogni infermetà può trovare nella misericordia di Dio un soccorso efficace. La sua misericordia infatti non si ferma a distanza. Desidera venire incontro a tutte le povertà e liberare dalle tante forme di schiavitù che affliggono il nostro mondo. Vuole raggiungere le ferite di ciascuno per medicarle. Essere apostoli di misericordia significa toccare e accarezzare le sue piaghe presenti anche oggi nel corpo e nell'anima di tanti suoi fratelli e sorelle.